Il mondo dei videogiochi si prepara a vivere un'altra avventura straordinaria, questa volta sul grande schermo. Super Mario, l'idraulico più famoso del pianeta, è pronto a saltare di nuovo in azione con il sequel del suo film animato. Nintendo e Universal hanno acceso i riflettori su Super Mario il film 2, annunciando ufficialmente il seguito del blockbuster che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Il primo film ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, posizionandosi tra i titani dell'animazione. Il nuovo capitolo, attualmente in produzione con il titolo provvisorio Super Mario Bros., il film 2, vedrà la luce il 3 aprile 2026. Aaron Horvath e Michael Jelenich torneranno alla regia, con la magia animata di Illumination Paris. Stiamo pensando a come ampliare il mondo di Super Mario e realizzare una storia divertente. Speriamo che non vediate l'ora, ha dichiarato Nintendo of America. Dopo il trionfo del primo film, le aspettative per il sequel sono alle stelle. I fan si interrogano. Quali sorprese nasconderà il regno dei funghi? Quali nuovi personaggi arricchiranno la saga? E quale avventura attende Mario e Luigi? Il successo della collaborazione tra Nintendo e Illumination lascia presagire che Super Mario, il film 2, sarà un viaggio indimenticabile nel cuore dei videogiochi. Mentre l'attesa cresce, l'universo di Super Mario continua a espandersi. Giochi, fumetti e un mondo colorato e coinvolgente tengono alta la passione dei fan. E chissà, forse proprio tra queste pagine e questi livelli si celano gli indizi delle nuove avventure che prenderanno vita sullo schermo. Super Mario. Il film 2 non è solo un evento cinematografico, è un appuntamento con la storia dei videogiochi. Un'attesa che vale la pena di vivere, un invito a prepararsi per un altro salto epico nel regno dei funghi. Preparatevi a schiacciare Goomba, a raccogliere monete e a seguire Mario e Luigi in un'avventura che promette di essere ancora una volta leggendaria.